impariamoci insieme per andare a ballare ma perchè solo io non faccio mai niente? mamma! ma come vuoi a me? che lo sace io? è colpa tua sicuro? ma qual è colpa mia? esci vattene chi ti trattiene? fa soldi gatti a Roma che non tengo un euro manco la macchina che ha già fatto? vedi? fai solo io sei tu che si strugge insieme a Emma vedi anche insieme ad Emma io insieme a chi? a sto cactus la simpatia proprio ciao mamma guarda dove sono finita ciao saluta lui è il mio amico che finì merda caccio fatto stiamo ovviamente idratando la pelle idratiamoci la pelle e tu non te l'idrati? vabbè te l'idrato io ma perchè ci dobbiamo picchiare? picchati pure tu vabbò ti picchio io come fondotinta io utilizzerò qualcosa di super luminoso l'ho invece qualcosa di più per la pelle mista come fondotinta io uso questo per le facce da culo e lui usa un fondotinta per pelli più pelose qua io ti devi lasciare un poco perchè sei troppo peloso poi il fondotinta qua non si stende bene Emma non usa mai il fondotinta però cioè guarda te com'è figa infatti guarda com'è figa e poi ci sei tu oh chef grazie al fondotinta prima faccio schifo io faccio schifo anche con pensa tu sono schifo no culo e che pac glielo devo dare pure io no però sei più omogenizzata sono un omogenizzato guà che gusto di omogenizzato che io me lo mangio sai che mi sento sai quando all'asilo danno ai bambini problematici dei colori perchè non capisco niente di ciò dai prendi questo penale nel colore mentre io faccio le cose mi sento così ecco perchè mi davano sempre i colori da piccolo allora perchè non capivo un cazzo ci stiamo mettendo il correttore Emma non ha occhiaie perchè è una stronza stronza vera perchè guarda qua io tengo proprio i solchi le fosse le borse quelle da mare proprio grandi usa sempre questo eh si cara perchè si fonde se usi la spugnetta del fondotinta e noi dobbiamo fonderci o fondotintarci va bua ma diventa come un omogenizzato quindi è giusto? si è giusto oddio mi hai fatto preoccupare mi è venuto un coccolone ti hai mettuto un po' che correttori anche se chiesti l'occhiata ten proprio cioè teni l'occhio azzeccato o nato ma come sei fatto? stavo per struccarmi e ma ci siamo iniziati a truccare già ti volevi struccarmi adesso facciamo un po' di contour barra bronzing con questo fondotinta che io ovviamente non ho oh 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 ma siamo maschi scrive wow 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 ma siamo maschi si siamo proprio pazzi fuori da legale io soprattutto scrive no però tranquilla perché si sfuma velocissimamente ti vuoi sfumare velocissimamente anche tu e scompari grazie guardate che bello allora stavo insegnando va molto così adesso a Milano sopracciglia su e tu ne tiene sopracciglio che facendo così il prodotto si distribuisce bene in tutte le sopracciglia così poi quando le tiri su fa proprio effetto tipo laminato pazzesco a me solo fa un effetto di merda allora voilà quelle la bambina emma si sta cimentando almeno tutti i cimenti chi si sta a casa non sta a fare niente ma che ci sta a fare oh no la la a che punto siamo sopracciglia fatte passiamo agli occhi bella mia passiamo agli occhi e mostro di karate way up comunque così ci fai un po' da andare a dormire è un po' lunga questa cosa vabbè tanto infatti tengono un suono no giusto eh per me la parire poco bisogna dormire basta levati dal cacchio non serve un cacchio non farino non si muove non fa niente ma va a fare la gu va la base degli occhi ce l'abbiamo ed è oli a pru ivy che si chiede ma che cacchierola ci faccio qui non lo so manch'io c'hai un cane e ci devi essere anche tu ok ma mi posso truccare con ivy tipo così cagnettage guardate che belli li ho fatti io a Emma e quando gliele hai fatti quando che non si è visto sono molto da gattina molto fighi miau miau e più che miau adesso passiamo ai glitter si glitter wow ma perché tutto questo entusiasmo vabbè wow questi sono i glitter wow bellissimi se solo le avessi anche io sarebbero ancora più belli io utilizzerò questi qui e ma invece quelli bianchini bianchini a roviri sto bianchi io non lo vedo Emma Vincenzo yeah wow ma questi sono fiocchi di neve a me invece sono fiocchi di sterco ma va bene lo stesso acqua di neve ma rov ma come faccio così ma si fai così ho ricomprato i miei amati glitter anche quelli grossi e potevi comprarli anche a me facevi un'opera di bene che qua mia madre figurati se mi compra qualcosa che hai detto ma che ti devo dire niente ok taccesso cosa ah oggi come stiamo si con l'aiuto di questo geggio c'è deve mettere glitter con l'aiuto di una penna sai che pensavo che gli sparasse no non gli sparavo e sparami a me ti prego qua spara e ma sta provando per la prima volta la cera si sta mettendo la colla nei capelli dici che cosa ne pensi first impression c'è la colla così no non sono tanto convinto wow 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 vi città di kyle di embalacent la mia è la 705 io non ce l'ho la 705 ma manco tutti i numeri prime e quelli dopo cioè non tengo proprio niente buona 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 ok questi sono i look finali devo dire che a me piacciono molto sì ma non mi hai fatto vedere una mazza io già non so fare niente di mio dai non mi fai manco vedere ciao due fegna oh a buone stasera andiamo al gatto pardo io invece vado nel mio letto pardo a dormire per vedere gli outfit si guida cg e non si fanno ste cose io lo volevo vedere mo ya ma ciao adios baci bacione 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 lo puoi dire solamente Ariana Grande oh cacchiarola oh cacchiarola